A chi fa una professione, soprattutto a chi la fa con passione, capita di guardare poi il mondo anche con l'occhio un po' tecnico e legato forse al lavoro anche che si fa. Lei si è occupato di cinema, di teatro, come abbiamo visto oggi anche di letteratura. Come guarda l'esterno? Con quale occhio? Ma è una domanda complicata. La cosa importante è avere la curiosità. Quindi anche il fatto di sperimentare, di muovermi in altri campi oltre a quello dell'immagine, cioè oltre a fare l'attore, di scrivere poesie o di recitare poesie di avanguardia storiche tipo i futuristi, i surrealisti spagnoli. Lo faccio semplicemente perché sono curioso. Frequento molti artisti, pittori, scultori perché sono curioso. Io credo che solo la curiosità è il motore del mondo. Questo rapporto con la terra, descritto anche da questo libro, ha origine soltanto dal suo luogo di nascita oppure ci sono anche altri motivi, altri legami? Io credo che è soltanto, riguarda semplicemente la mia vita personale. Poi se questo tema è un tema che diventa anche universale, tanto meglio. Però non bisogna mai avere la pretesa di parlare per tutto il mondo, bisogna parlare per se stessi e piano piano vediamo cosa si fa.